Come mai mi trovo qui? Perché ho fatto il software del sistema di registrazione quello grazie al quale non ci sono file qua, sembra che non c'è nessuno in realtà abbiamo fatto entrare tipo 800 milioni di miliardi di persone e poi alle 14.50 aula N1 avrò il mio intervento, il mio primo intervento pubblico faccio outing, coming out Mara Marzocchi, co-founder Codemotion Chiara Russo, co-founder Codemotion Codemotion è la più grande conferenza tecnica in Italia, Spagna e una delle più grandi in Europa e questa è la prima volta, andiamo anche fuori dall'Europa perché a settembre saremo attivati Diciamo che è un'opportunità unica di confronto, approfondimento, networking, condivisione su temi legati alla tecnologia qui è diventato il punto di riferimento per i developer, quindi è un appuntamento imperdibile annuale abbiamo anche tantissime attività, oltre i talk con speaker internazionali da tutto il mondo ci sono le aziende che vengono a promuovere le loro tecnologie ma anche per assumere quindi posti di lavoro e grandi opportunità anche tutto un'area dedicata alle start-up che sono qui per incontrare i developer un'area dedicata a Internet of Things e Maker e poi abbiamo quest'anno anche dei laboratori per bambini quindi per insegnare a programmazione elettronica e robotica anche i bambini dai 5 ai 14 anni Siamo qui allo stand Amazon Web Services con Interact X Pepper e lì stanno preparando la sala per il training hands-on lab quindi come si fanno le cose con Amazon Web Services dove Paolo, il nostro IT master, darà una mano per lo svolgimento della sessione L'ambiente sembra molto vivo, vedo tanti giovani, tante aziende interessanti quindi appena arrivata ma vediamo che cosa tiriamo fuori da questa giornata al Code Motion Interact è partner di Amazon Web Services ormai da parecchi anni ci occupiamo delle soluzioni di cloud computing siamo una delle principali aziende che lavora in questo campo da parecchi anni grazie al supporto di Amazon Web Services e oggi li supportiamo all'interno del lab che sta al Code Motion un lab messo a disposizione da tutti i partecipanti molto interessante perché possono mettere in atto il funzionamento del cloud computing di Amazon Web Services quindi capire proprio, lavorandoci sopra, come funziona il cloud computing spero che ci siano parecchie persone oggi qui da noi così possiamo lavorare insieme ciao sono Danilo di Amazon Web Services sono qui a Code Motion come Amazon Web Services e con i nostri partner per dare accesso a tutti i nostri laboratori quindi chi è venuto oggi a Code Motion ha potuto testare gratuitamente i nostri servizi con i nostri laboratori i nostri servizi coprono uno spettro piuttosto ampio che va dal computing, macchine virtuali, servizi di networking e anche servizi applicativi, motori di workflow, trascodifica video con i nostri servizi puoi usarli come building block e costruire la tua applicazione in modo da che sia scalabile e sicura se vuoi provare i nostri servizi, utilizza tranquillamente il nostro portale abbiamo anche un free tier gratuito per il primo anno ciao, sono Roberta di Interact e non potevo mancare il Code Motion che è una grande vetrina di innovatività e tecnologia nello scenario romano grazie 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 un evento organizzato per parlare di cose e soprattutto di innovazione penso che sia un evento molto importante soprattutto per aggregare tutte le persone che veramente sono interessate all'innovazione oggi siamo qui con Amazon Web Services e Xpeppers noi rappresentiamo Interact e presideremo Onlabs su AWS Servizi Cloud Computing è importante conoscere i servizi Cloud Computing non tanto da un punto di vista commerciale ma soprattutto da un punto di vista tecnico per capire veramente quelle che sono tutte le potenzialità del Cloud Computing ciao, io sono Alessio Ricco e sono a Code Motion perché presento un talk su Titanium Mobile che è una piattaforma per sviluppare applicazioni mobile cross-platform usando JavaScript i video devono mettere su YouTube e poi la prima cosa veramente dedicata a Internet of Things OPS ciao Allora, la MinoBoard, la MinoBoard è come una computer ragazzi, è un computer, cioè costa 200 dollari, ha il GPIO per poterlo connesso, però di fatto è una motherboard di un po' più di tiri, grazie che va veloce. Un po' più smart, un po' meno potente, la MinoBoard per esempio, ho dispositivi più o meno di questa potenza, è un dispositivo sempre simile a un computer basato su la MinoBoard all'Atom, la MinoBoard all'Atom, comunque sia ben potente. Adesso, in questi giorni è uscito l'Arduino 3. L'Arduino 3 si posiziona molto in alto nella classifica della potenza ed inizia ad essere un po' ninja anche lui. L'Arduino 3 è la fusione di un Arduino con una MinoBoard, quindi è potente, ci gira un sistema operativo Linux, ovvero, e integra le funzioni dell'Arduino, perché non è l'ingissimo? Non è l'ingissimo perché chiaramente è grande, occupa un po' di spazio, consuma e non è proprio economicissimo. Poi esiste la MinoBoard, poi al centro della scala mettiamo i Raspberry Pi, Arcino Auto, famosissimo, un computer in miniatura delle dimensioni di una carta di credito con cui si possono fare veramente un sacco di progetti. l'Inter Galileo, l'ho messo, è molto potente, però è un po' meno ninja. Costa 200 dollari, per 200 dollari non ci comprate neanche la puzza di un cittoscopio normale. Questo uscirà ad agosto e vi era il mio complesso. Codemotion per conoscere quello che fanno le varie aziende, cosa offre il mercato e quali sono i servizi innovativi che ci sono in giro. Ciao, sono Xinjie, sono un designer di Alfred, un bellissimo sito, l'ho fatto io. Ciao, sono Martina. Ciao, sono Xinjie. Siamo qui a presentare la nostra startup, Alfred, e siamo contenti di aver partecipato a Codemotion. Noi siamo Chupa Mobile, una startup molto giovane che ricerca oggi tre figure per raggiungersi nel team e far parte del team. In pratica noi vendiamo e compriamo codici sorgenti di applicazioni mobile, iOS e Android. Volete aggiungere qualcosa, ragazzi? Io mi occupo dello sviluppo del business, quindi lavorare su tutte le metriche per far sì che il traffico aumenti in continuo. Io sono il front-end developer e sono qui per rendere migliore la vita agli utenti del nostro sito. Ciao, sono Salvatore Lajda, sono sviluppatore web, sono qui a Codemotion con i miei amici di Appster da Milano, che è una community, nel quale appunto ci piace rifondere il verbo del codice e del divertirsi facendo codice. Sono qui a Codemotion, ma perché? Perché sono qua dalla prima edizione, quindi ormai è l'equivalente di una droga. Quindi vi invito anche voi a partecipare a questa dipendenza di massa. Ciao, sono Javier, sono uno dei fondamenti di Tiawaki.com. E' una start-up per i sviluppatori software, per cambiare informazioni con i miei amici e per comunicare con molti gruppi al stesso tempo, per cui puoi servire servizi, linki, best pratiche, e puoi integrare con qualsiasi strumenti che hai visto al momento. E' un'occasione perfetta per noi, per Atuma, per lanciare l'SDK. Lanciamo il nostro SDK, quindi i developers sono invitati a venire qui, a iscriversi qui, nel nostro sito, e accedere al programma di Early Developers che abbiamo lanciato, che permetterà a sviluppatori esterni di creare moduli e funzioni che utilizzano Atuma. Che cos'è Atuma? È un'applicazione che permette di creare Smart Action sui vostri device. Alibabai, siamo nati nel 2013, esattamente qui al Code Emotion, quindi nella versione precedente, l'attuale. Abbiamo riapprofittato quest'anno per partecipare a questo evento. Abbiamo con noi alcuni dei nostri prodotti che abbiamo sviluppato. Oggi siamo qui nell'area GameDev. Il Code Emotion è un evento unico, non manca mai occasione per ritornarci. Riesce a coniugare conoscenze, mondo del lavoro e soprattutto tanto divertimento, buona gente e buone esperienze. Io sono Luca Leone, sono un Game Developer e sto comprendendo l'Imaging Cup, che è una competizione internazionale di Microsoft, sono con un team di quattro persone, si chiama Silia Lab, è il nostro team. Stiamo facendo un gioco che si chiama Lumis, è un gioco 2D su un mondo tridimensionale, è un platform adventure. Il 15 saremo a Milano per la competizione nazionale, per la finale nazionale e se vinciamo andiamo anche a Seattle a competere con tutto il mondo nella sezione Game. Ciao, io sono Andrea Paggigiani e Eugenio Petrullah. Siamo venuti qua al Code Emotion per sponsorizzare, per portare un po' di WordPress all'interno di questo bel evento. Siamo della community WP Italy Plus, ci trovate su Google Plus e seguiteci. Allora noi siamo lo staff di Footmove, Pino, Maurizio, Carla e Luigi. Siamo a Code Emotion per promuovere questo nuovo prodotto, Footmove, scarpa sensibilizzata. La scarpa serve per giocare con l'iPhone, non solo con le dita ma anche con il piede. Sono Marco Ridrivi a Racknia, siamo a Code Emotion a presentare i nostri prototipi di stampanti 3D. Siamo stati al Maker Faire a ottobre e siamo contenti di essere tornati qui in questo meraviglioso evento. Sono interessato alla nuova tecnologia, ai nuovi framework di sviluppo perché comunque come fornitori tecnologici ci farebbe piacere collaborare con aziende, con alcune aziende che sono qui, secondo me è importante, è un evento importantissimo, l'evento è Code Emotion.